Altra questione di stretta attualità riguarda il fronte dell'emigrazione. Oggi la missione del ministro dell'Interno Lamorgese a Tunisi con il commissario europeo agli affari interni, Johansson. Luciana Lamorgese in missione a Tunisi per affrontare la nuova emergenza migratoria. Il ministro dell'Interno incontra il presidente Kais Saïed e il premier Ishem Mechisi mettendo sul tavolo numeri che fotografano una nuova impennata degli sbarchi. Sono oltre 13.000 gli arrivi nel 2021, di cui 3.500 solo a maggio provenienti dalla Tunisia e soprattutto dalla Libia. Quasi 9.000, ha chiarito il ministro davanti al comitato parlamentare Schengen. Lamorgese spinge perché la questione sia al centro dell'agenda del summit dei leader europei del prossimo 24 e 25 maggio e contemporaneamente lamenta un sostegno insufficiente da parte di Bruxelles. Accanto a lei nella riunione a Tunisi siede proprio il commissario europeo degli affari interni, Ilva Johansson, che promette aiuti a Roma. Abbiamo imparato che la redistribuzione volontaria da sola non basta, ha detto, serve di più, ovvero impedire le partenze. Per questo l'obiettivo è stringere patti con i governi dei due paesi affacciati sul Mediterraneo, da cui partono le rotte per l'Italia. Per questo il commissario lavora anche ad un nuovo accordo tra l'Unione e il governo transitorio libico di Hamid Beybada, da chiudersi anche prima delle elezioni previste a dicembre.